E un altro telefilm che si andava a vedere, se le immagini sono pronte, possiamo sfumare con la luce, anche questa è una canzone di ragazzi di padre Tobia. Tra questi ragazzi, Sandro Acerbo e anche Sandro oggi, come direbbe qualcuno col caschetto giallo, è qui con noi! Salve Sandro! Allora, Sandro Acerbo, però fratello di Maurizio Ancidoni, doppiatore anche lui, vi dico solo alcuni dei doppiaggi che attualmente fa. No, prova di qualcosa, una battuta del bello del momento? No, no, no. Comunque, prova, saluta e intanto vediamo se riconoscete la voce. Va bene, buonasera a tutti, sono molto emozionato anch'io, e niente, sì, il mio mestiere principale è quello di fare doppiatore. Vabbè, posso dirlo, non me ne vergogno, anzi è un grande onore, doppio Brad Pitt. E anche Will Smith. Poi Michael Jeffox, Grant, Matthew Broderick. Purtroppo sono, non me ne vergogno, 47 anni che faccio questo mestiere, quindi i ragazzi di Padre Tobia è stato un felice intervallo, ho cominciato ma poi mi sono dedicato totalmente al mestiere che amavo di più che è quello del doppiatore. Però è stata un'esperienza molto bella perché l'ho vissuta nel periodo degli anni che ha mio figlio adesso, a 14 anni, ho cominciato questa bella cosa a Napoli, era molto bella perché cominciavamo più tardi la scuola, perché andavamo a Napoli da settembre e tornavamo verso novembre inoltrato, quindi i primi due mesi di scuola li saltavo sempre. Io vorrei, Sandro, che tu ricordassi Tobia e Jacinto. Grande Silvano Tranquilli che ci ha lasciato qualche anno fa, era una persona veramente eccezionale, poi si era creata un'atmosfera carina perché poi noi ragazzi eravamo, non mi ricordo se 12, 13, avevamo preso lui come nostro padre putativo insieme a Franco Angrisano che faceva il sacrestano. Si era creata una grande famiglia anche perché molti dei ragazzi di padre Tobia non erano neanche degli attori professionisti, alcuni erano stati reclutati così grazie a dei provini fatti al volo e mi ricordo che abbiamo mantenuto un ottimo rapporto con loro anche dopo la fine dei ragazzi di padre Tobia. Tra l'altro il piccolino che era un po' la mascotte oggi è nel settore sanità. Sì, alcuni hanno proprio totalmente cambiato mestiere, però è stata un'esperienza bella che ricordo con grande piacere, sono anch'io rimasto sorpreso come mio fratello di essere chiamato per un premio per una cosa di così tanto tempo fa. Però è bello, bellissimo perché ci fa ritornare un pochettino più giovani. Con le loro vive avventure edificanti in cui il bene e l'amicizia trionfano sempre, i ragazzi di padre Tobia è la prima serie catechistica per la televisione e al contempo inaugura il filone, tanto di moda al giorno d'oggi, dei sacerdoti televisivi. Padre Tobia ha incarnato la figura del genitore ideale, autorevole, ma sempre pronto a difendere i suoi ragazzi, dimostrando di sapere come capirli. E ha divulgato i valori della famiglia, dell'amicizia e del bene. Premio speciale del decimo festival, consegna il consigliere Remaschi. Grazie tante. Erano degli sceneggiati così carini dei quali sentiamo bisogno anche adesso. Quindi ricordiamoli con affetto e con simpatia perché ne abbiamo tanto bisogno. E soprattutto sono convinto che se la Rai li producesse, li mettesse in DVD avrebbero sicuramente molto successo. Grazie a Sandro Acervo.